Buongiorno a tutti e benvenuto a una nuova puntata delle Tech Pills dedicate alle soluzioni di Panda Security. Io sono Luca Settino, Pre-Sales Engineer di Panda e oggi dedicheremo un po' di tempo alla conoscenza di Panda Full Encryption, soluzione di full encryption governabile direttamente dalle nostre piattaforme di security ITER. Perché Panda ha deciso di introdurre una tecnologia di encryption come modulo all'interno dell'offering di sicurezza? Perché fa al paio con i regolamenti GDPR, quindi la tecnologia di encryption è impattante direttamente alla necessità di notifica in evento ovviamente sfortunato di data breach, è soluzione consolidata in ambito finanziario, infatti l'encryption viene inclusa nelle linee guida specifiche ad esempio per i soggetti finanziari e per coloro che ad esempio trattano informazioni quali numeri di carte di credito. In ambito strettamente invece di security è una funzione critica per i laptop, poiché in caso di furto o smarrimento degli stessi ovviamente i dati contenuti nei dischi rigidi non sono assolutamente reggibili né recuperabili quando ovviamente lo stato di full encryption è attivo. E' ovviamente importante anche per i desktop o per i server, poiché in caso di dismissione degli stessi hard disk contenuti o nel riciclo dei device ovviamente i dati scritti nei dischi e negli hard disk ovviamente non sono recuperabili perché criptati. Sono utili anche ovviamente in caso di attacco fisico, poiché ovviamente se viene rubato fisicamente un disco i dati contenuti non sono assolutamente né leggibili né recuperati perché criptati dalla tecnologia di full disk encryption. Quali piattaforme supportiamo? Panda full encryption è in grado di gestire una tecnologia nativa Microsoft denominata BitLocker e quindi le piattaforme attualmente supportate da BitLocker quali sono? Vediamolo un po' insieme. Sono Windows 7 alla versione Ultimate Enterprise, primo sistema operativo dove appunto BitLocker ha fatto esordio ovviamente la tecnologia ormai è consolidata e quindi poi si è provveduto a rilanciarla anche in Windows 8 nelle versioni Pro ed Enterprise in Windows 10 nelle versioni Pro, Education ed Enterprise e per quanto riguarda la famiglia server è stata introdotta in 2008 R2 e ovviamente nel 2012, 2016 e 2019. Non vengono ancora incluse le server core edition. Cosa significa full disk encryption? Significa che il disco viene criptato mentre la macchina è spenta, quindi ovviamente in caso di fuoto, sbarrimento, non è possibile come vi ho già detto accedere ai dati, quindi è necessaria la decryptazione al boot, all'avvio delle macchine. Come viene diciamo custodita la chiave di encryption e decryption? Nella modalità più semplice viene scritta all'interno di un chip fisico saltato sulle motherboards delle nostre macchine, quindi questo chip viene denominato trusted platform module, è previsto nei computer più recenti e non quelli ovviamente più datati e la chiave appunto viene conservata fisicamente in questo chip in modo da evitare degli attacchi in memoria, quindi un hacker che dovesse riuscire a entrare su delle macchine, a leggere RAM e quant'altro, non è in grado di estrapolare poi la chiave di encryption. Cosicché un attaccante rimuovendo anche fisicamente un disco dalla macchina, quindi procede ad effettuare proprio un attacco fisico, non potrà mai accedervi in un secondo momento perché collegato a una terza macchina il disco è leggibile perché ovviamente c'è un'associazione stretta tra il TPM e ovviamente la disk e quindi scendendo questo legame ovviamente non si potrà mai accedere ai dati contenuti nella disk. Ovviamente non è solo questo sistema come metodo di autenticazione al sistema operativo, ovviamente quali sono quelli previsti da BitLocker? Ovviamente come vi abbiamo spiegato già è solo il TPM, il TPM ha il vantaggio di non richiedere anche necessariamente una password diversa dalla password di login al sistema operativo, la password di dominio o quant'altro, ma può essere solamente custodita la chiave stand alone da parte del TPM, quindi accendendo la nostra macchina, la macchina accede al TPM, recupera la chiave, decritta il disco in maniera diciamo trasparente rispetto all'utente. Per coloro invece che non hanno a bordo un TPM è prevista la possibilità di inserire una passphrase, quindi una chiave alfa numerica, è possibile inoltre invece associare al TPM anche un pin numerico che dovrà essere digitato al boot e poi ovviamente è solo per la modalità Windows 7, questa funzionalità poi è stata diciamo deprecata nelle successive versioni di sistema operative, la possibilità di creazione di una chiavetta USB che conteneva ovviamente la password di decrittazione, quindi bisognava necessariamente inserirla al momento del boot della macchina. In quale soluzioni viene integrato Panda Full Encryption? Panda Full Encryption viene integrato in tutte le nostre soluzioni di security, Endpoint Protection, Endpoint Protection Plus, Adaptive Defense e Adaptive Defense 360. viene integrato nella piattaforma ITER. Spostiamoci velocemente su un ambiente di demo per andare a verificare con mano quali sono le informazioni e come sia possibile monitorare il modulo di criptografia Panda Full Encryption e com'è semplice la sua configurazione. All'interno ovviamente della sezione di stato ci rispostiamo sulla sezione interamente dedicata alla criptografia e abbiamo la possibilità di verificare lo stato della criptografia, quindi se il modulo sta correttamente lavorando su quali macchine, su quali macchine invece ci sono degli errori, su quali invece il modulo di full encryption è disabilitato. il modulo di full encryption è in grado in maniera autonoma di stabilire su quali macchine supportano la criptografia, suddividendoli ovviamente per la loro natura, quindi se le macchine sono workstation, laptop e server. Più in basso abbiamo una dashboard esplicativa su quali computer siano effettivamente criptati, facendo distinzioni su quali siano stati criptati attraverso la tecnologia e l'intervento dell'agente di Panda, quindi attraverso Panda Full Encryption, e quali ad esempio siano stati criptati attraverso l'intervento diretto di BitLocker e dell'utente, quindi ad esempio se il BitLocker sia stato attivato prima dell'installazione di Panda, come ad esempio quando troviamo la dicitura criptato dall'utente. Più in basso invece abbiamo la dashboard che ci descrive in maniera esaustiva quale metodo di autenticazione sia stato applicato alle macchine, quindi riprocedendo a un breve elenco, TPM, TPM più password, solo la password per coloro che ovviamente non possiedono la bordo macchina al TPM, e ovviamente chi lo attivano tramite unità USB. La configurazione di tale modulo è molto molto semplice, sotto la sezione impostazioni abbiamo un profilo dedicato completamente alla criptografia. Possiamo quindi creare uno o più profili da associare direttamente a uno o più gruppi di macchine che risiedono sulla stessa console, andiamo a vedere che cosa è possibile gestire. Sono semplicemente quattro voci che governano l'intero lavoro del Full Panda Encryption e a guardarlo bene cosa è possibile gestire. configurato solo la prima voce significa che stiamo andando ad abilitare la Full Disk Encryption solo a quelle macchine che possiedono TPM. Nel caso invece non abbiamo TPM ma vogliamo utilizzarlo sulle macchine più datate, allora bisognerà necessariamente creare un profilo ad hoc e attivare anche la seconda voce. La terza voce invece fa riferimento alla possibilità di non criptare i computer che richiedono un'unità USB per l'autenticazione. Quindi significa che BitLocker era stato già precedentemente attivato con il metodo ovviamente di autenticazione quale appunto l'unità USB. Se invece vogliamo criptare soltanto lo spazio di disco utilizzato, questo va a impattare sicuramente la prima volta che attiveremo BitLocker sulla macchina, significa che l'attività in background di encryption del disco sarà diciamo meno invasiva, meno duratura nel tempo perché ovviamente ci metterà di meno andando a criptare solo lo spazio disco in cui ci sono i dati. Ovviamente BitLocker interverrà tutte le volte che noi aggiungeremo e scriveremo nuovi dati sul disco perché verranno contestualmente criptati. Una volta che ovviamente apporteremo queste modifiche alla configurazione di full disk encryption, bisogna ricordarsi ovviamente di andare a evidenziare quali gruppi di macchine vogliamo aggiungere, potendo agire direttamente sui nostri gruppi che abbiamo definito in console oppure andando ad aggiungere anche semplicemente una singola macchina. Abbiamo sempre questa possibilità. Una volta definite i destinatari del profilo che abbiamo creato, il profilo può essere tranquillamente salvato e poi contestualmente verrà una volta salvato distribuita la nuova policy in tempo reale su tutte le macchine colpite. Un dettaglio molto 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 importante per quando parliamo di full disk encryption con BitLocker è il salvataggio della chiave di ripristino. L'agente di Panda raccoglie questa chiave di ripristino che viene salvata all'interno di ogni singola scheda della nostra macchina. Ad esempio andando a selezionare questa macchina all'interno dei dettagli troveremo appunto l'informazione della chiave di ripristino. Questa chiave di ripristino viene richiesta quando ad esempio abbiamo problemi col BitLocker in richiesta dal sistema operativo oppure quando dobbiamo ripristinare il sistema operativo stesso. Quindi le persone dell'ET accendendolo a console di Panda avranno questa informazione in maniera immediata sotto la scheda di ogni singolo PC. Quindi full disk encryption è un strumento molto importante che abilita un nuovo layer di sicurezza all'interno delle vostre macchine. viene gestito a tutto tondo tramite la console centralizzata in cloud di Panda sulla piattaforma ITER e vi ho mostrato come sia semplice creare delle configurazioni per governare tutte le funzionalità di BitLocker e della sua full disk encryption. Io ho terminato la presentazione, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e mi raccomando prestate attenzione alle altre tech pills che pubblichiamo sui nostri canali usuali. Un saluto e un abbraccio da Luca Settino.